ore 19 e 30 tonde tonde parliamo piano perché ci ascoltano non fanno arrivare le nostre notifiche ci silenziano cercano di smentirci ma tre anni che ci provano e non ci sono riusciti e anche oggi anche oggi notizie clamorose sul paragone punto it attendo voi ciao a tutti lunedì 25 settembre ore 19 31 è già passato un minuto sono stato precisissimo puntualissimo ho fatto un post pochi minuti fa dicendo ore 19 30 collegatevi non notifica arrivata chissà perché è arrivata pamela la notifica avranno forse capito che a mo adesso faremo in altro modo manderemo l'invito personale ad uno ad uno perché l'unico modo l'unico modo per far arrivare queste maledette notifiche che fanno sì che l'informazione reale l'informazione contro contro sapete cosa arrivi alla gente ciao a tutti ciao buonasera ciao rosaria ciao carlo ciao carlo clemente guido meri antonio davide paschetta ciao caro ciao francesco carlo botta siete pronti oggi alcune notizie normali altre notizie veramente veramente clamorose certe che non si possono assolutamente raccontare dovrò solo darvi titoli ma dovrò limitarmi a quello se vorrete leggere integralmente vi dirò dove andare come fare per andare a leggere integralmente partiamo siete pronti vi chiederei prima di tutto di condividere dato che la notifica a molti non arriva non so perché attenzione se andate a vedere nella vostra privacy notifiche potete riattivare perché non si sa perché l'algoritmo di colpo ha staccato le notifiche delle persone quindi di fatto avete notato non ci arrivano più notifiche anche a me non arrivavano più al che ho riamesso voglio la notifica e me la rimandano hai capito il giochino il giochino it alert arriva senza bisogno di spingere niente ma le notifiche dei nostri amici delle persone che seguiamo delle informazioni che ci interessano non arrivano se noi non andiamo a ripremere il pulsantino consenti le notifiche detto questo siamo pronti attenzione sul paragone partiamo dalla prima notizia che fa arrabbiare una parte importante della popolazione perché c'è un premio nobel un personaggio importante che farà magari la fine di montagnere vi ricordate montagnere perché lì che dice l'italia cresce di più degli altri paesi l'analisi del premio nobel spense ecco chi è messo peggio siete curiosi di sapere chi è messo peggio dell'italia e se dico peggio dell'italia amici se dico peggio dell'italia vuol dire che è messo veramente male veramente male attenzione chi è messo peggio dell'italia secondo questo premio nobel incredibile siamo pronti se i catastrofisti e i disfattisti dice l'articolo sono tutti in italia altrove c'è chi guarda al nostro paese con maggior favore come michael spence premio nobel per l'economia nel 2001 e docente della new york university presso l'università e presso l'università la bocconi intervistando dal giornale a margine del npl meeting di villa erba a cernobbio un evento che ha riunito e di maggiori operatori del settore del recupero crediti deteriorati ha detto una cosa che dispiacerà ai piddini no perché una lucida analisi della macroeconomia geopolitica che parte dal suo paese gli stati uniti di cui la priorità è di rimanere a passo con la cina no per tecnologie tutte dice che ci sono paesi che sono messi molto molto peggio dell'italia che di fatto tra i nostri colleghi e partner europei c'è chi è messo molto peggio di noi sapete che è messo peggio di noi ciò accade anche se la crescita rimane bassa per l'amore di dio non è che andiamo benissimo è però la crescita rimane bassa ma c'è chi va peggio di noi perché la germania che è un grande partner commerciale della cina ha trascinato anche l'italia nelle in questa cosa qua qui dunque e l'interdipendenza dell'economia europea si trasforma anche in un fardello totale secondo questo grande premio nobel ci sono dei problemini no tipo la transizione energetica temo molto controverso no e ci sono il problema della banca centrale europea che ha messo dei tassi di interesse che ci hanno massacrati quindi l'infla lotta l'inflazione paradossalmente ha frenato gli investimenti noi siamo quelli messi meno peggio in questo disastro totale ci sono paesi che sono quasi a gamba all'aria messi molto molto peggio di noi e ne pare perché l'area del mondo più compromessa è quella dell'asia orientale dipendente della cina anche se non si fida completamente il modello cinese sta andando a gamba all'aria la cina messa peggio di noi attenzione il modello cinese che tanto decantavamo sta andando a gambe all'aria questa notizia però fa arrabbiare perché in europa non siamo quelli messi peggio è assolutamente dicono che non siamo quelli messi peggio anzi anzi quindi non voglio immaginarli non voglio immaginare gli altri poi questa è una notizia tranquilla quindi sono perdito molto dolcemente adesso adesso capirete perché non arrivano le mie notifiche adesso buonasera ragazzi e ragazzi vi vedo nei commenti ciao rosario ciao laura adesso capirete perché non vogliono che si dicano che si leggano le nostre notizie siete pronti vi faccio vedere il titolo siete sicuri di vedere il titolo siete sicuri scrivetelo nei commenti guardate morte improvvise più che raddoppiata a dirlo ora la scienza c'è un grafico sciocche attenzione non posso fare vedere tanto vi faccio vedere il grafico al volo comunque ne parla nel giornale d'italia diversi quotidiani un grafico pubblicato in germania quindi tutto reale secondo il german adult per quarta del 2016 2022 c'è questo aumento nel grafico esponenziale fine non posso dire altro non posso dire altro avete visto io non posso dire altro avete visto la crescita io però non voglio dire altro lasciamo questo questo compito ai fenomeni del checking no io ho detto solo che c'è un grafico tedesco ufficiale che fa vedere una crescita incredibile alcuni quotidiani tipo giornale d'italia ne parla quindi vuol dire che le morti improvvise forse non sono poi così normali attenzione attenzione questa sera sono particolarmente misterioso c'è un personaggio simpatico a tutti noi siete pronti per questa fa incazzare questa con questa io mangerai il computer guardate chi c'è guardate chi c'è macron macron amici macron cosa ha fatto il signor macron intanto togliamo sti banner pubblicitari antipatici il signor macron amici ne ha fatta una delle sue anzi ne fa una pesantissima delle sue perché la francia l'assalto dei risparmi degli italiani ecco come parigi mette le mani nelle nostre tasche gabriele angelini tratta un argomento ostico molto ostico per i nostri partner europei per i per quelli per gli europa illusi quelli che pensano che in europa ci sia gente che ci vuole bene che vuole bene all'italia invece andiamo a vedere queste cose perché c'è una partita in corso che sta sfuggendo all'attenzione dei più ma che è cruciale vorrei la vostra attenzione una partita che può sembrare solo finanziaria ma che in realtà è tutta politica perché il secondo polo italiano sta diventando francese amici guardatemi il secondo polo italiano sta diventando francese perché abbiamo questo signore che sta facendo mettere le mani dei francesi sul nostro secondo polo qual è il nostro secondo polo provate a dirlo amici vediamo se qualcuno di voi lo sa ne ha parlato alla stampa la stampa il secondo polo italiano sta diventare francese secondo un retroscena della stampa credit agricole colosso bancario transalpino sta continuando la sua scalata per controllare tutto il risparmio gestito amici dopo aver incassato per dire amore dopo aver incassato pioneer adesso ha messo le mani nel merino di anima anima infatti il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in italia con un patrimonio complessivo pensate di circa 177 miliardi di euro e più di un milione di clienti quindi nasce da un percorso di aggregazione di più società con specializzazioni differenti e complementari e conta oggi 300 professionisti in italia la francia tramite amundi è dunque pronta a mettere le mani sui risparmi degli italiani con 177 miliardi di euro di gestione di nostri soldi quindi stiamo per regalare alla francia la gestione di fatto di un patrimonio esagerato veramente triste poi altra notizia questa farà incazzare gli automobilisti a me particolarmente ve le pensano tutte amici le pensano veramente tutte dalla prima all'ultima cosa hanno pensato questa volta guardate vi faccio vedere l'anteprima guardate cosa hanno pensato amici come siamo messi è regione come siamo messi multe amici multe siete pronti siete abituati ai ai gli autovelox no roba vecchia roba vecchia perché arriva il tele laser multe arriva il tele laser che sostituirà gli autovelox non ci sarà scampo come funziona perché fa già paura cerchiamo una foto del tele laser cerchiamo una foto del tele laser ve lo faccio vedere in anteprima questo sarà il tele laser che ci spettinerà guardate tele laser allora questo tele laser amici sarà la novità la veramente la novità come spiegato geopop la si chiama tron cam in grado di misurare la velocità istantanea di automobili e cam fino a 320 km all'ora la società produttrice attenzione ha spiegato il principio in cui si basa il suo funzionamento il tele laser trum cam determina la velocità mediante la misurazione del tempo di volo del bravissimo impulso di luce infrarossa emesso dal diodo laser insomma non ci scappi non ci scappi è precisissimo e quindi al contrario degli autovelox dunque non sarà sufficiente rallentare in prossimità della fotocellula per evitare multe salate arrivare nei paraggi della scatola a una velocità elevata porterà inevitabilmente la sanzione quindi è inutile frenare all'ultimo in sostanza in sostanza amici devo dirlo questo tele laser insomma anche se tu dovessi rallentare 50 metri prima questo ti becca da lontano e ciao quindi ben prima di vedere il vecchio autovelox una volta ci vedevano dico rallento cerco di rallentare no adesso mo adesso mo ti becca anche in distanza quindi ciao a tutti e vai con le multe vai con il ritiro di punti patente tutti chi le paga bruna scarrica il dubbio è quello e il dubbio è quello sul paragone non parliamo del condono edilizio perché attenzione del condono edilizio del condono in generale perché vuol fare salvini vuol dire vuol condonare le cartelle fino a 30 mila euro vediamo chi è d'accordo c'è qualcuno di voi che ha qualche cartellina in corso qualche cartellina se meccelo da qualche parte quindi salvini dice condoniamo fino a 30 mila euro secondo me qualche multina da pagare arretrate tutti ce l'hanno tutti e ce l'hanno tutti e a parte i miliardari che che non è che magari non le paga manco perché hanno gli amici però poi attenzione un'altra notizia di oggi questa mamma questa fa arrabbiare questa l'ho fatta anche oggi e fa incazzare da morire fa veramente incazzare siete pronti siete pronti ad ospitare nel vostro comune una nella vostra provincia un centro per il centro per i rimpatri perché è tutto ufficiale amici è tutto ufficiale cioè o meglio stanno ipotizzando di costruire 12 centri in più in italia sono già dieci quindi 12 diventerebbero 22 in sostanza in ogni regione vogliono mettere un centro per l'impatrio e sono tante le città in balia di questa di questa scelta di questa scelta sono veramente tante tra le quali le abbiamo elencate oggi ma ve lo ridico in toscana si parla anche se la toscana non vuole ha già detto che non vogliono a 20 miglia sicuramente lo faranno perché totti è carico come una molla poi abbiamo modena e bologna pescia coltano prato vicino coltano di pisa no poi abbiamo cortone pescara l'aquila capobasso falconara marittima venezia treviso verona caserta ancora insomma amici preparatevi perché aumenteranno questi centri qua ne metteranno da tutte le parti dice la meloni non li metterò vicino ai centri abitati speri sinceramente speriamo altre notizie paragoni che si arrabbiato ha asfaltato la francia come fan ancora i colonianisti in africa ma croni mutande e questa è un'altra notizia invece veramente veramente brutta ve la faccio vedere in primo piano se riesco perché veramente una notizia di quelle di quelle fastidiose che non vogliono dare perché non vogliono far capire che la situazione è schifosa intanto mi parte sempre la pubblicità del del sito che mi ha fatto che mi fa le maglie di ogni dubbio è lecito allora questa è una notizia che dà molto molto fastidio siete pronti ve la faccio vedere perdonatemi torniamo indietro picchiato investito con l'auto avete letto questa notizia guardate picchiato investito con l'auto dopo una lite grave diciannovenne l'ennesimo full episodio di violenza dove è successo era una fermata dell'autobus nel centro di azio a 60 chilometri da roma quando ha visto un'auto iniziare a sfrecciare a forte velocità passando davanti a lui una e due volte tre volte lui gabriele f a quel punto ha fatto presente le persone a bordo dei tre ragazzi che avrebbero dovuto smetterla ma il trio praticamente ha fatto un disastro perché il trio il trio in aspettate che torno in primo piano il trio purtroppo purtroppo si è fermato e che fa che ha fatto hanno in presenza anche di altre persone i tre ragazzi avrebbero dovuto smettere questo qua gli era detto in sostanza la direttore in milano addirittura investito veramente una cosa triste questo fa capire la violenza che c'è tra i giovani sono veramente rammaricato per quello che sta succedendo perché tutti i giovani tutti i giorni dei giovani dei giovani fanno delle cose del genere ditemi voi se siamo in un mondo si viviamo in un mondo normale e il problema che quello che fanno quello che fanno vedere tutte le cose che fanno vedere quello che cercano di di l'educazione che stanno dando ai giovani è quello che sta portando il mondo alla follia più totale purtroppo è l'educazione che stanno dando ai nostri giovani è colpa anche di molti genitori devo ammetterlo ma non solo dei genitori anche di chi è attorno a noi e cerca di cambiare l'educazione in peggio dei nostri giovani poi torniamo questa è l'ultima notizia del giorno questa questa mi fa incazzare questo mi fa perché attenzione perché matteo bassetti è tornato all'attacco dei novax l'ultimo attacco di matteo bassetti però è andato a finire molto molto male lo guardiamo per chi non se lo ricordi eccolo facciamo un applauso matteo bassetti che è sempre matteo bassetti è l'ultimo attacco ai novax è un boomerang poi l'assurda richiesta la verità è la ricerca di essa su covid vaccini dà ancora parecchio fastidio come accusato la scrittrice silvana de mari radiata dall'ordine dei medici vorremmo ricordarlo in un articolo in cui abbiamo parlato qui si vorrebbe silenziare mettere a tacere nascondere occultare invece guarda un po continuano a esserci giornalisti che scavano che scavano lo facciamo anche noi quotidianamente matteo bassetti in sostanza è attaccato nuovamente i novax no e perché ce l'ha con i novax perché vi ricordate anche l'attacco che fece raffaella regoli perché si vorrebbe silenziare mettere a tacere nascondere occultare tutto quello che dicono questi giornalisti in questo caso ci sono giornalisti come raffaella regoli con le sue inchieste di fuori dal coro e magistrati che indagano politici che non che non ce la sta non ci stanno a sottostare a questi diktat e ovviamente ci sono richieste assurde anche delle virostari in questo caso matteo bassetti uno delle virostari più in più famose durante il covid e più volte smentito dai fatti continua ad accusare e gli altri compresa la regola di spargere delle fake news e che è il solo che dice il vero secondo lui ovviamente lui dice il vero e basta e tanto da farci anche un libro dove ha detto dove ha parlato ha denigrato ovviamente noi e cioè noi che non la pensiamo come lui sentite cosa è stato in grado di dire proprio e di fare la cosa peggiore che poteva fare ovvero promuovere se stesso quindi un'auto celebrazione di se stesso ascoltate le parole testuali matteo bassetti tra i più esposti mediaticamente primario del san martino di genoa appena pubblicato un libro titolato pinocchi in camice chi sarebbero secondo bassetti i pinocchi in camice sapete come sono fatto ha dichiarato in un'intervista rilasciata al corriere della sera non ho mai indietreggiato la scienza non è come la politica se una cosa è giusta ma non piace la maggioranza della gente la devi sostenere lo stesso è vero non mi farò tanti amici ma servirà la gente a capire con chi hanno a che fare è vero è vero è bravo hai ragione chi sono i pinocchi matteo bassetti medici pseudo medici farmacisti infermieri ma il pinocchio è anche il paziente che si fa fregare attenzione anche quindi voi chi si è fatto fregare un pinocchio è un pinocchio un pinocchio quello che va su google quello che che anche cosa gli dice il cugino che pensa che con la dieta miracolosa dimagrisce che spende un capitale per i farmaci omeopatici allora io vorrei ricordare una cosa caro bassetti perché in questo caso io stavo leggendo mi viene da vomitare caro bassetti sinceramente ma quelli che hanno creduto quello che bassetti quelli che hanno creduto sono quelli che hanno creduto alle parole vostre quelle che dicevano se non ti vaccini ti ammali poi muori se non ti vaccini fai ammalare la nonna e poi ti ammali poi si ammala anche lei poi morite in due cioè quelli e tanta gente vi ha creduto no quando dicevate questo se vi fate voi non vi ammalate caro bassetti no perché tu mi stai dicendo nel tuo libro hai detto i pinocchi in camice riferendoti a quei medici che hanno cioè guardate la copertina e non la guardo meglio di no vi faccio rivedere bassetti cioè bassetti tu hai stai dicendo nel libro che danno dei bugiari dei pinocchi a tutti e anche la gente che ha creduto la gente che ha creduto alle ai falsi medici secondo lui ma io vorrei ricordate che la gente ha creduto a quello che avete detto voi in questi tre anni e mezzo ha creduto che farsene una due o tre o quattro servisse a non ammalarsi e non prendere nulla oppure oppure non l'avete mai detto rispondetemi voi nei commenti non l'ha mai detto bassetti e tutte le virustar non hanno mai detto fatevi così non vi ammalate non hanno poi dopo hanno cambiato dopo hanno cambiato la versione quando l'ho visto che la gente si faceva lo stesso si ammalava e c'è chi periva lo stesso sinceramente vorrei una risposta da quelli che hanno creduto ovvero quelli che si sono sottomessi una due tre quattro volte è vero che vi avevano detto domanda più che lecita e risporta e ogni dubbio è lecito è vero che vi avevano detto mario stefania antonio francesca claudia martina gennaro tu te la fai tranquillo non ti ammali stai tranquillo va in giro sei libero viva la libertà ve l'hanno detto o non ve l'hanno mai detto questa è la domanda il libro bassetti secondo me è sbagliato proprio a indirizzarlo cioè il libro potrebbe essere anche pinocchi in camice potrebbe essere un titolo azzeccato ma secondo me è sbagliato proprio la parte da attaccare sinceramente detto questo amici io sono fiero di essere un uno che ha resistito lo dico non mi vergogno c'è starò sulle palle a una parte importante della popolazione ma una parte non è un'altra parte importante no sarò simpatico io sono felice di sono e orgoglioso di essere uscito a resistere in questi tre anni e quella cosa che mi dà più fastidio è che che tanta gente ha capito tanta gente ha capito e questi continuano pensando di essere seguiti da persone continuano bassetti in compri tutte le birostar continuano pensando di essere nel giusto sono convinti sono convinti poi io attenzione non penso che abbiano voluto far male le persone questa gente salvo qualcuno qualcuno che magari ok però penso che convinti convinti a tal punto da non ammettere nessun tipo di errore convinti a tal punto di non ammettere gli errori che hanno fatto io vi dico solo questo per me i pinocchi sono quelli che ci hanno raccontato usa la mascherina tranquillo non ti ammali la usi h24 i miei figli l'hanno presa a scuola con la mascherina tutto il tempo secondo me i pinocchi sono quelli che ci hanno raccontato e se prendi caffè al banco e sta in piedi va bene se stai seduto devi mettere la mascherina se no vi ammalate quelli sono i pinocchi perché dicevano delle grandi cazzate i pinocchi sono quelli che dicevano bravi usate le mascherine in macchina da soli oppure in spiaggia da soli la mascherina quelli sono i pinocchi con tutto rispetto i pinocchi sono quelli che hanno raccontato o il condizionatore o la pace dopo quasi due anni di guerra cazzo ci andiamo fra un po arriviamo ai due anni di guerra cioè e ci hanno raccontato il condizionatore la pace aumentando alla fine abbiamo fornito le armi la guerra è stata fatta la guerra va avanti abbiamo avuto il raddoppio del costo di del del cibo e l'aumento delle bollette lo stesso quindi ci hanno preso per il culo quelli sono i pinocchi i pinocchi sono quelli che ci hanno raccontato tre anni di cazzate ma per fortuna la gente la gente che ha creduto ai pinocchi adesso non chiede non crede più ai pinocchi detto questo vi saluto vi auguro una buona serata grazie per il collegamento mi dispiace che le notifiche arrivino solo quando vogliono loro questo fa capire che diciamo la verità ve lo assicuro è perché se dicessimo delle cose delle stronzate a favore del sistema sono convinto che avrei di milioni di collegati farebbero in modo di farmi trovare milioni di persone che mi seguono seguitelo che lui dice quello che ci interessa invece io dico dico quello che interessa a noi ovvero la verità semplicemente la verità poi lo farò in modo delle volte agitato delle volte arrabbiato delle volte un po scurrile mi chiedo perdono delle volte lo farò sgrammaticando delle volte non da nobile lord radical shit con il rolex al polso e l'arma cromista che mi veste ciò non toglie che sono uno dei tanti del popolo della gente e questo dà fastidio perché noi siamo gente umile sapete noi siamo gente umile che si fa il culo della mattina alla sera lavora e pretende solo una cosa due cose la libertà di fare di vivere sereni e la libertà di poter dire quello che pensiamo tutto qua poi notizia è crollato oggi un tetto di una scuola milano visto ne parlava prima fan page anzi dovrei trovare la notizia è crollato un tetto di una scuola milano penso elementare forse non lo sapete però crolla tetto crolla tetto milano se trova la notizia ve la faccio vedere questo mi fa capire ecco guarda nove ore fa la martin luther king ne parlano i giornali e vi faccio vedere se riesco la notizia perché è tutto vero questa mi fa è una notizia che mi fa particolarmente arrabbiare voi direte perché ti fa arrabbiare robbie perché noi continuiamo a mandare armi spedire armi spendere incazzate dare alla gente su gente poi mi trovo milano scuola elementare martin luther king allagata per il crollo del sottotempo ragazzi martin questa cosa scuola qua allagata per il crollo dovrebbe essere questa qua non vorrei dire una cavolata ma dovrebbe essere questa qua la notizia che è arrivata se non sbaglio proprio sì 25 settembre 2023 di oggi quindi ragazzi abbiamo le scuole che crollano e si allagano abbiamo le scuole che crollano e si allagano e continuiamo a spendere stiamo spendendo in immigrazione per mantenere gente che arriva e non abbiamo i soldi per noi abbiamo le scuole che crollano e si allagano spendiamo per mandare delle armi ovunque e siamo messi da panico detto questo vi auguro una buona serata ragionate ragazzi i pinocchi i pinocchi chi sono i pinocchi ciao a tutti ciao vi voglio bene buona serata